Ciao a tutti amici di SportingTour, oggi il viaggio ci porta con SportingTourGame, la scuola calcio Oney Football Friends. I ragazzi sono pronti, sono santissimi e volevano cantarci questa canzone. L'applauso è per i piedi che mi hanno schiacciato, ciao! Gli SportingTourGame proseguono la loro marcia inarrestabile e questa settimana si sono recati alla scuola calcio degli Oney. Un circuito che coinvolge sempre di più chi vi partecipa tra ragazzi e genitori in giro per l'Interland romano, assumendo ancora più spessore. Famiglie che quindi vivono momenti di puro divertimento e spensiratezza e che nel rinsaldare il loro legame rinforzano anche l'iniziativa. I giochi di tanto tempo fa, volti all'attivazione psicomotoria, stanno riscuotendo un successo che non si ridimensiona e anzi continua a crescere per una rassegna che si sta iniziando a prefiggere nuove obiettivi. Anche questa settimana il gruppo di ragazzi allenati e coinvolti da Simone Quinquinio ha risposto presente e con grande entusiasmo alle attività proposte dall'animatore, ormai figura di riferimento immancabile per questo tipo di appuntamenti. Il pomeriggio, ancora una volta così proficuo, è terminato nuovamente in una serie di interviste che hanno arricchito l'iniziativa, contribuendo a lanciarla sempre di più in orbita. Un'abitudine che sta prendendo piede e che rende maggiormente funzionale la rassegna di eventi su tutto il territorio della capitale. Siamo qui con Anacleto che è il papà di? Buonasera, Giuseppe Bonanni. Quanti anni ha Giuseppe? Ne deve fare nove in corso dell'anno. Da quanti anni gioca qui a Lonei? Questo è il primo anno, il primo mese. Volevamo una sensazione su Sporting Tour Game, hai visto da spettatore e poi da genitore hai giocato insieme a noi, quindi grazie, cosa ne pensi? È stata una bella iniziativa, i bambini si sono divertiti, quindi grazie, è stato bello, bisogno di dire. Grazie mille, ciao. È la volta di Mr. Luca. Mr. da quanti anni ha l'inicchio all'anno? Questo è il quarto anno. Confidiamo che noi ci conosciamo da più di vent'anni, credo ormai, ormai siamo un po' andati con l'età. Che gruppo hai? Alleno i primi calci 2015. Che cosa ne pensi di Sporting Tour Game? Oggi siamo venuti qui e abbiamo fatto l'attività insieme a voi. È stata un'esperienza bellissima, soprattutto per i bambini, siamo divertiti e ha creato molti sorrisi, che questa è la cosa principale per noi e per i bambini. Quando c'è il loro sorriso, per noi è la migliore vittoria che possa essersi. Grazie, ciao. Grazie a voi, buona serata. Terminata l'attività di Sporting Tour Game, siamo qui per fare l'intervista e conoscere i bomber, due bomber di questa squadra. Come ti chiami? Christian Calignano. Pietro Scherparo. Quanti anni hai? Otto. Sette. Che ruolo fai? Ala. Pure io. Pure io. Qual è il tuo giocatore preferito? Messi. Totti. Ok, parliamo di italiano, quindi vi faccio una domanda culturale. Perché tutto attaccato si scrive staccato e staccato si scrive tutto attaccato? Perché italiano. Perché italiano. No. Ciao, salutate. Ciao.